L'annuncio, lo scorso 5 febbraio da parte d'Arbuzzi Unicem, titolare dell'impianto di produzione della ex cementir di Aquata Scrivia, dell'intenzione di chiudere il sito entro la fine di marzo a causa della crisi del mercato edile, aveva scatenato l'ira dei sindacati, che avevano puntato il dito su accordi non rispettati, poiché un'intesa siglata nel 2017 prevedeva che il cementificio proseguisse l'attività di pari passo ai lavori del terzo valico, in stretta sinergia col Cocife, che fornendo commesse e assumendo parte del personale sta tuttora tenendo in vita la produzione. Ma cosa potrebbe accadere ai lavoratori attualmente a carico del Cocife quando termineranno i lavori per il terzo valico e quale sarà il futuro degli altri 17, nonostante l'impegno della società casalese di non lasciarli in mezzo ad una strada? Dubbi e domande che sono state messe ieri sul tavolo del prefetto di Alessandria, Iginio Olita, durante l'incontro in videoconferenza al quale hanno partecipato la proprietà, il Cocife, i rappresentanti sidacali e il sindaco di Acquata Alberto Basso, è emersa un'apertura verso i dipendenti, che è stato promesso dalle varie parti non saranno abbandonati, ma probabilmente trasferiti ad altri stabilimenti. Certo, per i lavoratori sarebbe molto difficoltoso spostarsi per tanti chilometri, ha sottolineato Rocco Politi della filiera CGL, infatti un altro cementificio della Buzzi Unicem si trova a Trino Vercellese, però l'apertura al dialogo al momento è positiva. La pensa così anche Paolo Tolo della Feneal Wheel in vista di un'ulteriore tavola di confronto entro il 31 marzo, al quale potrebbero seguire eventualmente scioperi. Il primo cittadino di Acquata, seppur cautamente ottimista, vorrebbe valutare una riconversione dell'ex cementir. Fra i partecipanti però hanno lasciato un po' di amaro in bocca le dichiarazioni della proprietà dello stabilimento, che avrebbe scaricato in toto la patata bollente nelle mani della Buzzi Unicem. Quel che è certo è che la vita del cementificio è destinata all'epilogo dopo una crisi quasi ventennale e innumerevoli tentativi di rilancio. La crisi del settore Dile è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.